eccoci qua al tavolo e al tavolo mo già ti sei mangiato tutto l'antipasto la fuori ora dovresti mangiare anche qua oggi è uno dei giorni più importanti della nostra vita è un grande piacere condividerlo con voi grazie di cuore gli sposi no vabbè ragazzi vabbè tra poco faccio vedere cosa si mangia il conte scetto guarda che meraviglia ragazzi il conte che aspetta il pranzo tanto è tutto gratis tutto gratis ma devi fare anche il regalo amore mio ciao ecco qua questo risotto con l'aracosta e i camperetti no vabbè conte è arrivato il risotto ecco qui la seconda portata scetto ma che sono tortelli il conte sta parlando di lavatrice scetto vabbè ragazzi a tra poco ecco qua è arrivato il secondo scetto amore cos'è cos'è amore gricciola agli agrumi e gamberoni a peccato scetto tanto a sto prezzo vero ma ancora dobbiamo fare regalo a mia cucina si scetto amore qua ci sono le bomboniere guardate che mi interessa ma è più i testimoni no te le puoi portare comunque ti faccio vedere i dolci dopo ci dà la bomboniera e noi ti dobbiamo dare il regalo a mia cucina scetto ci diamo il regalo dopo vieni qua faccio vedere i dolci guarda i dolci vieni qua guardate che meraviglia guardate che meraviglia ragazzi questi se li mangerà tutto il conte vieni qua guardate quanti dolci fino allo sotto ragazzi fino allo sotto scetto ci ha mandato un regalo a mia cucina forse che poi ci dà la bomboniera guarda 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 ora gli altri è vestito già ha fatto il lancio del bocchier o no? il lancio del bocchier l'ha fatto perché deve lanciare ora? la giarrettiera la giarrettiera gliela toglie lui la giarrettiera scetto ragazzi guardate i dolci andiamo prendiamo dolci si qua è finito il video si è persa